Un saluto a Gossip News con tanto affetto. Ciao! Sono passati 5 anni dalla prima volta che Niccolò Centioni metteva piede sul set dei i Cesaroni, la fortunata serie tv di Canale 5 dove interpreta i giovani Rudy. E da allora molte cose sono cambiate nella vita privata come sul set. Sono cresciuto insieme al personaggio, ci credi? Che io 4 anni fa ero dispettoso e adesso sono quello che sono, come uguale. Adesso sono uguale, identico come recito per i Cesaroni. E rispetto alle passate stagioni Rudy è cambiato parecchio. Sono molto molto cambiato, nel senso, allora fino alla terza serie Rudy era il classico dispettoso ragazzino. In questa serie, che sono passati due anni, perché la storia è che sono passati due anni praticamente dall'ultima serie, è cresciuto proprio da così a così. Ed è cambiato perché non fa più scherzi da ragazzino, ma anzi si parla soprattutto d'amore per Rudy in questa serie. Un grande amore, ma non con Alice, come molti fan della serie si sarebbero aspettati. Tra di loro, invece, un rapporto di diverso tipo. Sarà un bellissimo rapporto, non saranno più cano e gatto, ma saranno veri e propri amici. E di amore si parla? Tra me e lei no. Tra te e qualcun altro? Sì. Assolutamente sì. E sarà quello il bello di questa serie. Un grande, grandissimo e bellissimo amore. Nella vita privata, invece, per l'amore c'è ancora tempo, ma quanto a ragazze, Nicolò sembra avere i Jolly Day molto chiari.